Posso dirti una cosa? Hai tempo tutta la vita per lavorare, ma i tuoi fili sono piccoli una volta sola. Sai, una delle più grandi sfide della vita è essere se stessi e non cercare di emulare gli altri. Ci sarà sempre qualcuno più bello, più intelligente, qualcuno più giovane, ma non sarai mai tu. Non cambiare per essere amato, sii te stesso e le persone giuste ti ameranno per quello che sei. Nella vita bastano tre cose, l'umiltà di non sentirsi superiori a nessuno, il coraggio di affrontare ogni situazione, la saggezza di tacere davanti alla stupidità della gente. Sai, un giorno qualcuno ti distruggerà talmente tanto che poi sarai indistruttibile. Avere dei buoni vicini di casa è come avere una casa più grande. La gentilezza è una forma di eleganza, la migliore che io conosca. E c'è ancora gente che la confonde con la debolezza. Non abbandonarli mai, sono così innocenti che pensano che tornerai. Sì, è una cosa. Fare gli stronzi con i buoni e bacilli. Ma dimenti, i buoni incassati mettano paura. Sai, se urli, tutti ti sentono. Se bisbilli, ti senti solo che ti sta vicino. Ma se stai in silenzio, solo che ti ama ti ascolta. Nella vita non serve a nulla avere un diploma o una laurea, se poi non riesci ad avere rispetto ed umiltà per la persona che ti è di fronte, chiunque essa sia. Vi state lontani da chi vi fa pesare ogni vostro difetto. Non merita neanche uno dei vostri pregi. Se conoscete qualcuno che ha il coraggio di dirvi veramente quello che pensa, tenetevelo stretto. Se non potranno manipolarvi, diranno che siete pazzi. a tutti. A presto. A presto. A presto. A presto.